Funerale sospeso dalla procura e apertura di un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. I magistrati vogliono fare chiarezza sulle cause che hanno portato al decesso di un 86enne di San Nazario, ex operaio edile, scomparso per tumore venerdì scorso. La malattia, mesotelioma pleurico, sarebbe tipica di chi ha respirato amianto e può manifestarsi anche dopo una latenza di alcuni decenni. Una circostanza che fa prendere corpo all'ipotesi di una malattia sviluppata in ambito professionale, ipotesi peraltro già contemplata nella cartella clinica dell'uomo. È stato il personale dell'Ulstrae a segnalare il caso alla procura di Vicenza. Il funerale è stato rimandato per permettere l'autopsia appena poche ore prima della sua celebrazione e si terrà la settimana prossima.